L'ex campo di aviazione al vallato di Fano sempre più terra di nessuno, sempre preda di atti di vera pirateria ecologica. Sì perché abbandonare o liberarsi di rifiuti in aree pubbliche o in zone aperte è un atto scellerato ed ecologicamente criminale. La segnalazione che un report di strada ci ha fatto nei giorni passati ci fa vedere un ennesimo campionario di ciò che non si dovrebbe lasciare lì. Sanitari, bottiglie, residui di garage svuotati, masserizie di vario genere, vestiti, pezzi di mobilio e pensare che come più volte abbiamo detto basterebbe fare 500 metri in più e portarli all'Aset che gratuitamente li ritira o meglio ancora te li vieni a prendere direttamente a casa sempre gratuitamente. In questi anni qui in questo dedalo di stradine coperte da collinette nottetempo è stato lasciato di tutto, lavatrici, poltrone sbrindellate, frigoriferi, aiuti alimentari, materiali inerte di muratura, calcinacci o piastrelle di ceramica. L'occasione viene da dire a questo punto fa l'uomo ladro e forse la facilità di compiere questi sversamenti abusivi che l'area presenta è un punto da affrontare per l'amministrazione se non basta l'informazione, se non basta la sensibilizzazione, se non bastano le strutture a disposizione del cittadino vuol dire che la cosa è patologica e dunque bisogna passare alla seconda fase, quella della repressione del fenomeno con ogni mezzo disponibile. Beh, discarica a cielo aperto forse è un'espressione eccessiva, sicuramente è uno spazio in cui molti maleducati nella nostra città continuano in maniera anche incomprensibile a gettare rifiuti indifferenziati di ogni genere e tipo. Da questo punto di vista colgo l'occasione per ringraziare ASET che generalmente interviene con molta tempestività per la rimozione e per la pulizia in quell'area. Mi permetto anche di chiedere la collaborazione dei cittadini quando vedono episodi di questo tipo e di segnalarli immediatamente o all'Ufficio Ambiente del Comune di Fano allo 0721 887 438 o direttamente al numero verde di ASET 800 99 50 70. Sicuramente in quell'area però serve anche una serie di interventi di controllo e di deterrenza come la videosorveglianza da un lato e dall'altra anche l'inibizione di alcuni accessi ad alcune aree in questo momento non illuminate dell'ex campo di aviazione. Sono interventi che arriveranno con i prossimi lavori di estensione del nuovo parco urbano polverari e proprio nei prossimi giorni credo che il sindaco annuncerà alcune belle sorprese per tutta la città che riguardano il parco che daranno delle risposte molto concrete ed efficaci rispetto a questa problematica.